C'è una novità che potrebbe aprire uno spiraglio per la Fiat di Termoli in questi giorni di grande incertezza e preoccupazione per il gruppo di Torino. Nello stabilimento di contrada rivolta del Re, a partire dalla fine dell'anno verrà prodotto un nuovo motore destinato al mercato americano. Si tratta di un propulsore 1.4 di cilindrata, 170 cavalli appartenenti alla famiglia del Fire Multi Air e sarà assemblato per la versione della 500L che sarà guidata dagli automobilisti d'oltreoceano. A differenza di quello prodotto per il mercato italiano ha 42 componenti diversi che lo rendono più versatile e competitivo con dei consumi abbastanza contenuti rispetto alla potenza espressa. La notizia è stata annunciata dal segretario regionale della FIMCISL Riccardo Mascolo che la definisce una boccata d'ossigeno per lo stabilimento termolese che, secondo il sindacato, si sta difendendo meglio di altri impianti dello stesso gruppo dove la cassa integrazione è superiore. Ma intanto è proprio di questi giorni l'annuncio di una nuova settimana di CIG fissata dal 22 al 27 ottobre che questa volta riguarderà l'intero stabilimento. Uno stop produttivo forzato dal calo delle commese che interesserà 2.500 dipendenti tra operai e impiegati. La chiamano chiusura collettiva. C'era stata anche un anno fa ma Mascolo resta ottimista e crede che il 2013 sarà l'anno della ripresa. Ci auguriamo di buttarci alle spalle il prima possibile questo momento difficile, ha detto.